primo match ball per la Cale Loreto con il servizio di Zappi 14 a 9 il punteggio ricezione di Turchetti alza Pesaresi per Badiali il pallonetto coperto dal Loreto Zamponi viene murato ci riprova ancora lo stesso Zamponi che chiude il punto e quindi la Cale Loreto espugna il campo della Torroni vincendo per 3 a 1 e quindi rendendo se vogliamo pan per focaccia la Torroni che all'andata aveva vinto per 3 a 1 a Loreto ed affiancando la Torroni in classifica a quota 20 concludendo il risultato finale 3 a 1 per la Cale Loreto ad ossimo contro la Torroni parziali 8 a 15, 15 a 11, 14 a 16, 9 a 15 il tutto in 2 ore e 5 minuti di gioco grazie per la cortesa attenzione dal Palazzo dello Sport di Ossimo è tutto, buonasera